Benvenuti tifosi napoletani. In questo video, ti forniremo le ultime notizie sulla guarigione di Victor Osiman. Quindi, cogli l'occasione per iscriverti al canale e non perderti le prossime novità. Il giocatore Victor Osiman non intende rinunciare a partecipare alla partita contro il Milan, anche dopo le notizie negative sul suo possibile recupero. Domenica l'attaccante nigeriano ha deciso di continuare ad allenarsi, anche con la giornata di riposo concessa dal tecnico Luciano Spalletti. L'equip medico-atletica ha confermato che ha indossato gli scarpini e si è allenato al centro tecnico di Castelvolturno la mattina di Pasqua. Dopo l'allenamento, sono arrivate voci più positive sulla forma fisica di Osiman, che lunedì ha continuato il suo recupero. Le indicazioni sul suo stato di salute sono state più positive rispetto al giorno prima, facendo sperare che potesse tornare a giocare. Martedì verranno effettuati esami clinici e test decisivi, con l'intenzione di inserirlo nella lista dei convocati per la trasferta di Milano. Secondo me, se i risultati saranno positivi, il tecnico napoletano lo inserirà sicuramente tra i convocati, anche se vuole restare sulla panchina delle riserve. Credi che Victor Osiman sarà in campo nella partita contro il Milan? Lascia i tuoi pensieri nei commenti e non dimenticare di iscriverti al canale per i prossimi aggiornamenti sul recupero del giocatore. Sosteniamo insieme il Napoli!